Musica Oggi facciamo politica, facciamo amministrazione e non facciamo sterile, lo dico perché abbiamo aspettato tanti giorni Presidente, io ho visto qui dentro fior di costituzionalisti, fior di regolamentaristi, tutti sotto un braccio la Costituzione, sotto l'altro il regolamento a ore alterne lo cambiavano, ho sentito esegeti, nomoteti come quelli dei nostri colleghi radicali, le regole vanno rispettate ma le regole non sono l'oggetto del nostro lavoro. Musica